Radio Radicale, siamo con Mario Segni per parlare di riforme e di come Giorgia Meloni sta impostando la battaglia sul premierato che troverà il suo primo voto parlamentare il 18 giugno prossimo. Allora in attesa di questo voto Giorgia Meloni ha fatto sapere utilizzando una strategia totalmente opposta a quella di Renzi che insomma o la va o la spacca, questo è il termine che ha utilizzato e se va male il referendum lei ha detto la mia strada la proseguo per tutta la legislatura. Allora rispetto alla strategia Renzi come trova questa impostazione? Un'impostazione assolutamente logica, razionale, la Meloni ha tutto il diritto di trarre le conseguenze da un voto che non riguarda la sorte del governo. Io rispetto Renzi che si dimise in un gesto forse nobile. Lui in un primo tempo aveva detto io lascio la politica. Non si aveva detto di più, poi aveva fatto di meno, però comunque fu un gesto clamoroso, ricordiamolo Renzi, criticai per tante cose, ma questo fu un bel gesto. La riforma di Renzi non le piaceva? No, no, io votai sì, certino, tante cose mi erano sbagliate, ma è stato un danno per l'Italia che non si è passato assolutamente, votai convintamente sì. Come spero che passi la riforma a la Meloni, perché io sono convinto che per l'Italia è bene l'elezione diretta del Premier, se non ci sono altre riforme come pare che non ci sia. Quindi lo dico molto francamente, molto appartamente. Dopodiché l'Etra è una conclusione diversa a quella Renzi e il suo pieno diritto vorrei dire anzi che c'è un vantaggio. Il voto sulla riforma costituzionale diventa più libero, è meno voto politico ed è voto su una riforma come è giusto che sia, non si vota per il governo, si vota per una riforma. Una riforma che, detto fra l'altro qui, io vorrei invitare grandi costituzionalisti o piccoli costituzionalisti o giornalisti a smetterla che è una storia, questa è una riforma incostituzionale. Ma per favore, può essere una riforma sbagliata o non ha le sue idee. Ma la Costituzione dice che il governo è sostanzialmente scelto dai cittadini e questo è un modo di far scegliere il governo dai cittadini, che è la regola fondamentale di tutti i paesi democratici. Ci veniamo alle cose semplici, non alle cose arzigopolate. Lei quando affrontò il referendum del 1993, alla vigilia del referendum, che disse, lascio la politica, lei si sogniò mai di dire una cosa di questo genere? No, a un certo punto lo disse anch'io. Una campagna referendaria all'inizio, prima del 1993, molto difficile, dice guardate, se qui non riusciamo a raccogliere le firme, io me ne vado perché non ci sto più niente a più di fare. Questa era una considerazione mia, avevo tutto il diritto di farlo. Me ne vado in che senso? Lascio la politica? Sì, sì, l'avevo rilasciato. Uno ha tutto il diritto di farlo, non ha l'obbligo di farlo, ma era una situazione molto diversa. Perché io sono semplice deputato, non è l'unione presidente del Consiglio che sta affrontando come governo una riforma impegnativa. Ne trae lei le conseguenze politiche che crede. Poi se il Parlamento vuole sfiduciare, la sfiducia. Veniamo invece alle cose concrete. Mi fanno ridere quelle che l'Italia dicono che sta diventando un paese autoritario. Questo è un paese del disordine, del caos, ma stiamo scherzando. Allora, una riforma che lega il Presidente del Consiglio a una stabilità è comunque un grande fatto di avanzamento, o grande o piccolo comunque è un fatto di miglioramento. Cominciamo da queste considerazioni molto semplici. Quello che oggi ancora non c'è nella riforma sono una serie di correttivi che la rendono pasticciata. Questo io spero che nel dibattito dopo venga migliorato. Senta, vuole dire un... ritiene che la Meloni abbia sostenuto questa tesi del, diciamo, la vaola spacca e chi se ne è, se va male, perché ha visto che fine ha fatto Renzi? Non lo so. Chiedetegli, francamente non ha più palese. Non mi interessa tanto. Vediamo le cose come stanno. Ritiene che il comportamento di Renzi abbia fatto scuola, diciamo, per affrontare in maniera più avveduta con questo tipo di scadenze? Ma insomma, la classe politica non è che sia pronta a trarre grandi insegnamenti anche dalle sconfitte in genere. Renzi gli fece un errore che fu quello non di dimettersi, o forse è stato errore, ma il vero errore di Renzi prima fu quello di personalizzare la campagna, di fare una campagna dicendo qui si vota su di me, sono io che faccio tutto. Questo fu un grande errore. Quella poteva essere una grande riforma, discutibile naturalmente, ma era secondo me una grande riforma, ma proprio per questo andava slegata dal governo. Lui fece esattamente l'opposto, la legò a doppio mandato. Lei non ti sognò mai di personalizzare il referendum del 93? Ma io ho sempre cercato di personalizzare sempre meno quello che mi riguardava, assolutamente male. Lei disse anche a Pannella di non personalizzare? No, disse a Pannella in una certa occasione di fare un passo indietro, è vero, e lo fece. Ma lui che le disse quando gli propose questa cosa? No, lui non era molto contento, lui era in corso nell'infortunio di Cicciolina, cosa che possono capitare, cioè aveva appena portato in Parlamento Cicciolina, e quindi non era la persona più adatta a presentare una grande riforma dello Stato, in quel momento. Lui era sempre Marco Pannella, preziosissimo. Gli chiedemmo di stare un po' in disparte per quella campagna elettorale, e lui, suo malgrado, molto malgrado, perché si era terribilmente offeso, lo capisco, anche lo fece. Lui che le disse quando gli disse la cosa che si ricorda di più dell'arrabbiatura? Lui mi disse per vent'anni una cosa che però non c'entrava niente in questo, io gliel'ho già detta. Perché sei troppo amico dei comunisti. Sì, è appunto che io ero un criptocomunista. Me lo mise per iscritto, ma era indipendente da questo evento. Quella è una cosa che si chiuse, invece il criptocomunismo, secondo lui, rimase. La regola comunque è meglio non personalizzare. Brava Giorgia. Grazie a Mario Segni.